e c'è tutti ragazzi benvenuti in questo video sono Senex e oggi signori siamo tornati su football manager 2020 benissimo prima di iniziare come sempre ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale qualora vi piacessero queste serie di lasciare un like e magari di condividere il video come sempre se avete due minuti liberi da dedicarvi detto questo signori miei che cos'è qua che cosa abbiamo Maurizio Tacchi ti consiglia sì ma che consigli ma state zitto vediamo un po' dove eravamo rimasti col nostro Catania se non è lo se non è lo sì abbiamo le ultime due partite non stiamo proprio andando benissimo ultimamente abbiamo perso 4 a 2 con la regina abbiamo perso 1 a 0 in casa col Monopoli e oggi andremo a sfidare Paganese e Picerno che sancirà la fine del campionato di serie C il campionato la regular season diciamo così di serie C per poi tuffarci in quelli che saranno i playoff ormai abbiamo diciamo consolidato quello che è il terzo posto anche se la casertana è a tre punti però giochiamo contro la Paganese che è straultimo e il Picerno che è terzo ultimo quindi in teoria sulla carta dovrebbero essere due partite abbastanza semplici che voi direte vabbè partite inutili perché tanto anche se dovessimo perdere comunque i playoff le andremo a fare lo stesso ma invece no invece no cari ragazzi invece no perché questo perché queste partite e le altrettante vittorie che in teoria dovrebbero conseguirne saranno molto utili se non fondamentali per far aumentare il morale dei giocatori per quindi per poi essere pronti a sfidare le nostre avversarie nei playoff e con sia la forma fisica giusta ma soprattutto la forma mentale e il morale alto che ragazzi in questo gioco è fondamentale quindi nonostante il campionato per noi sia già chiuso i playoff sono già assodati queste due partite sono importantissime soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale anche perché abbiamo perso le ultime due quindi moralmente stiamo calando un po' perciò due vittorie ci daranno il via a quelle che saranno poi i playoff importantissimi ragazzi dobbiamo vincerli assolutissimamente sarà molto molto difficile perché ovviamente i playoff riguardano poi tutti i gironi della serie c quindi ci sarà anche il monza di berlusconi che ragazzi una corazzata ovviamente per la categoria insomma sarà difficile ma noi ci proveremo come sempre intanto ci stiamo avviando proprio alla partita contro la paganese che è ventesima non ho visto se nel frattempo siano uscite le quote sono uscite le quote non ho visto forse non ancora anche se mancano credo di sì ma saranno uscite no giusto gioco sono uscite eccole qua il pronostico tutto per il catani 1.50 la paganese 5.50 preggia 3.60 la paganese ne ha perse 4 ne ha vinta 1 noi ne abbiamo perse 2 pareggiate 1 e vinte 2 va bene andiamo anche a vedere a livello di formazione come siamo messi il mob grande immobile ciruzzo mitico in la mia punta di diamante al fantacalcio da troppe questo è una una informazione accessoria che ho dato vabbè eccoci qua allora scendiamo in campo con guerriere in porta calapai corbo con bulle pinto in difesa piegianti lodi dall'oglio centrocampo di molfette di piazza sulle ali e esposito centra punta centrale non abbiamo tuffo montiele che ragazzi è ancora infortunato ovviamente non rischieremo mai nella vita quindi iniziamo la partita e speriamo ad una bella vittoria che possa far alzare il morale e che non ho visto sinceramente comunque mentre la paganese si presenta con baiocco in porta carotenuto sbampato mattia e perri in difesa capesce centrocampista lidine caccetta centrocampo de stefano ma giullo le ali a supporto di diop unica punta parliamo la squadra appassionato dovrebbe vincere questa partita senza problemi una squadra come la nostra ovviamente quindi speriamo subito 20 secondi c'è subito calapai in possesso fa l'esposito la mette in mezzo allontana sbampato lodi di destra addirittura infatti il passaggio non va di destra lodi non sa far nulla subito però la paganese in avanti c'è diop pintola riesce a spazzare ma ancora la paganese che avanza con sbampato caccetta caro tenuto che la mette in mezzo va a raccogliere il non ho visto chi fosse ma la palla va a sbattere sul palo ragazzi ovviamente questi non sono dei buon dei segnali estremamente positivi mi sto iniziando a preoccupare un po' specialmente per le partite che verranno nei playoff non stiamo traversando proprio un momento di forma sbagliante è vero che manca un giocatore fondamentale che è Toffol Montiel però voglio dire contro la paganese a 20 che ha 20 punti ne ha perso 40 su 39 e potremmo anche riuscire a fare qualcosa di simpatico e intanto c'è guerrieri però che la va a lanciare perry lodi per corbo corbo per combulla combulla per corbo la giociamo in difesa non riusciamo a trovare lo spazio giusto per avanzare lodi il lancio di lodi sposi e te pare vabbè l'esposito veramente se non ti svegli nei playoff guarda non lo so che ti faccio e c'è lodi che va a battere questo angolo che probabilmente verrà perso si infatti ancora lodi la va a recuperare c'è dall'olio dall'olio per lodi lodi in mezzo carotenuto la spazza e finisce qua paganese ancora in avanti c'è capesce caccetta caccetta per l'idin l'idin che caccetta ancora la mette in mezzo ma non si capisce con i suoi compagni guerrieri fa su il pallone che studia il piazzamento dei compagni l'appoggia a terra il lancio lunghissimo verso non si sa chi e c'è carotenuto che fa su il pallone che tra l'altro sia anche infortunato de stefano attenzione alla paganese ancora in avanti il tiro e guerrieri è costretto ancora a parare e niente da fare ragazzi stiamo giocando proprio benissimo capesce carotenuto ancora in mezzo corbo la lontana c'è ma ma giulo perry perry c'è lodi che però finalmente intercetta e possiamo ripartire in contropiede c'è di molfetta il filtrante per esposito niente o esposito guarda se io l'avessi davanti se fossi il suo vero allenatore lo prenderei a calci nel di dietro fino a quando non impara a ecco gol che autogol questo non può essere mai eh vabbè certo non poteva essere mai esposito ovviamente incredibile ho tutti i tiri esposito tutti sul portiere impressionante impressionante calapai lodi per biaggianti ancora per calapai la cambia fascia di piazza all'indietro per dall'olio ancora per di piazza di piazza esposito ma dai ma no ma veramente mamma mia ma era tutto solo dico vabbè a 17 anni ma porca miseria ma la porta è larga 40 metri e dai l'idin lodi il niente la spazza preoccupante preoccupante ragazzi anche il fatto che loro abbiano fatto 11 tiri e di cui 4 in porta noi solo 3 e 2 in porta aggressivo non sono felice della prestazione no 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 ci dobbiamo iniziare a svegliare specialmente dove cazzo non è esposito ti devi svegliare porca miseria o è vero che proprio perché sei giovane dovresti essere dovresti essere quello più sveglio di tutti la paganese intanto in avanti no c'è calapai che va a rubare il pallone calapai esposito miracolo alleluia certo ha fatto 12 gol che non sono pochissimi specialmente per un ragazzino di 17 anni però porca paletta tutti i gol sempre e tutti i tiri sempre addosso al portiere o fuori e andiamo a raddoppio calapai ancora per esposito esposito lodi in mezzo di piazza non la riesce a prendere dall'olio la va a recuperare dall'olio centralmente di molfetto sulla fascia può metterle in mezzo si lo fa c'è di piazza ancora di piazza sempre di piazza niente ribattuto il tiro se hanno lo stesso aspetta 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 cambi 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 andiamo a levare con bulle mettiamo saporetti si togliamo un po di di ammoniti mettiamo silvestri poi qua che c'è biaggianti per rizzo perfetto di piazza ancora per pinto può metterle in mezzo pinto pinto ancora c'è de stefano però va a recuperare il pallone la spazza e c'è diop che però è solo contro tutti diop contro lodi diop contro lodi diop contro lodi diop contro lodi all'indietro c'è caccetta che l'allarga c'è però silvestri che va in anticipo c'è di molfetto può ripartire il filtrante per esposito ancora esposito il tiro vabbè neanche a dirlo ma questo neanche lo commento perché sarebbe strano il contrario e va a parare baiocco baiocco e andiamo a togliere anche cicciuzzo va mettiamo a welbeck e poi curiale per esposito dai facciamo riposare anche esposito pinto de stefano però ruba palla e c'è saporetti va in anticipo ma la paganese riconquista palla attenzione c'è musso completamente solo musso in mezzo mamma mia silvestri che intervento che andate a fare e riparte di nuovo il catani incontro pietre con di molfetta che l'allarga per di piazza di piazza tutto solo di piazza il tiro non è angolato abbastanza e c'è baiocco che va a parare la mette in calcio d'angolo di molfetta la mette in mezzo musso allontana corbo di molfetta ancora in mezzo mamma mia curiale a fuori gioco appunto perché era lasciato tutto solo e c'è il fuori gioco però quindi gol annullato a davis curiale musso all'indietro per mattia ancora l'indietro per baiocco 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 cerca di perdere tempo perché ormai la partita è ampiamente chiusa gherardi silvestri di molfetta di molfetta il lancio lunghissimo per di piazza bravissimo e poi anche di piazza ovviamente non vuole essere da meno del suo compagno di riparto esposito e anche qua baiocco sta facendo una grandissima partita le ha parate tutte infatti 7.7 ragazzi baiocco e ha fatto mille milioni di parate e va bene appassionato dai ben fatto alla fine dai diciamo l'abbiamo salvata in calcio d'angolo sta partita dai 2 a 0 e il terzo posto è anche va a prendere anche la matematica quindi va bene così la ternana arriva a playoff di molfetta perfetto ragazzi andiamo a fare quest'ultimo contro il picerno che anche loro non avranno più nulla da chiedere io immagino che vediamo un po il picerno si 29 in realtà no 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 va bene no 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 assolutamente no andranno ai play out qua dice play off ma saranno play out la pagrenza e il retrocesso ormai matematicamente ma da mo mica da adesso quindi ragazzi si andranno a giocare play out andiamo a sperare in questa altra vittoria e allora le quote seconda vettbolzone il catania 1.50 per giro 360 il picerno 5 50 l'arbitro è federico fontani e vabbè lo stato di forma è quel che 17 gialli un rosso dovremmo fare a meno di calapai che è squalificato andiamo di scelta veloce addirittura mette noce direi di no noce direi di no mettiamo silvestri so che è un ruolo nel quale non si trova proprio a suo agio completamente ma meglio silvestri di noce sicuramente ah ma avevate anche detto mentre ci penso di di farvi vedere a biondi kevin biondi che è un ragazzo della primavera che aspetta lo cerco direttamente da qua se no non lo troverò mai kevin se riesco a scrivere si kevin biondi eccolo qua ecco e voi perché non lo metti ecco perché ecco ve lo capite da voi è solo veloce ragazzi è solo veloce nella realtà sta facendo molto bene nella su fm purtroppo raga è quel che un'ala destra che ha solo della velocità ma poi qualità mentale tecniche veramente disastrose disastrose quindi nulla da fare per kevin biondi e no di nuovo e che palle silvestri abbiamo detto per il resto ragazzi torna toffo al montiel ovviamente come alla attaccante esterno sinistro poi silvestri corbo con bulla pinta insomma la classica formazione la classica formazione ragazzi nulla di nuovo e cerchiamo di far giocare più il più possibile questi che andranno ad affrontare i playoff mentre il grande picerno si presenta con pane in porta soldati lorenzini priole guerra in difesa la vigna e vrdoshak in mediana riccardi esposito anche lo quanti esposito ci sono calabrese e sparaci allo in attacco qua deleghiamo il vice finisce il discorso namo oggi ragazzi vedremo solo due partite ovviamente poi ci tufferemo nella magia dei playoff pregando il signore tutti i santi del paradiso che possono farci andare avanti in serie b perché saranno molto molto difficili 36esimo ragazzi e vediamo la prima azione importante della partita c'è pane che la la butta lontana attenzione esposito portiere giusto certo appunto va bene o mai già prevedo proprio il futuro io riesco a prevedere con esposito non c'è neanche bisogno di far finire l'azione che già so come andrà a finire finisce addirittura il primo tempo ragazzi solo quel tiro di esposito buttato addosso al portiere andiamo di aggressivo non mi soddisfa per niente e qualcuno qua se le risentite però magari mi riusciranno a dimostrare che stavo mi stavo sbagliando silvestri adesso guelbeck ancora per silvestri in mezzo montiel e niente anche toffolo montiel ci va a tradire e la butta fuori pane sempre lui lancio lungo guerra guerra all'indietro per priola priola per guerra guerra per priola priola per guerra guerra per priola no guerra per vrdojak vrdojak per la vigna per vrdojak vrdojak la vigna per vrdojak la vigna per vrdojak no per chi è calabrese vrdojak riccardi calabrese velocissimo attenzione sulla fascia sinistra in mezzo c'è il grande no non l'ha chiuso poi alla fine addirittura emmanuele esposito ecco sebastia prendi esempio dal tuo fratello emmanuele e fai un gol ogni tanto vuol dire qua ci spostiamo su molto offensiva sarebbe ragazzi ovviamente una sconfitta in dolore però ripeto era molto importante più che altro per un fatto mentale e di morale per farlo alzare un po visto le ultime sconfitte che ci hanno visto protagonisti ma intanto ancora il picerno che si è svegliato proprio a fine stagione contro di noi calabrese per riccardi riccardi l'allarga per guerra guerra ancora per calabresi in mezzo no c'è guerra ancora in mezzo il colpo di testa di ancora di esposito che è molto più pericoloso del suo del suo fratello catanese ecco vabbè non sono interessati ragazzi prende da dicono questa partita non ce ne frega una mazza e quindi o la verde vabbè ho capito è bastato dirlo prima andiamo a togliere montiela raga che era infortunato riusciamo cerchiamo di preservarlo un po mettiamo anche a barri si ci perdiamo il fetta e poi anche a pinto che ha giocato miliardi di partite poverino per noce per il resto direi che può andar bene così no perché noce aspetta mettiamo a marchese non noce che è un attimo ma stavo a fare i cambi vabbè voi segnate intanto segnate pure non me ne frega una mazza marchese per ok marchese grazie 89esimo 90esimo 91esimo ragazzi andiamo a perdere anche contro il picerno tra l'altro un tiro in porta ovviamente un gol neanche a dirlo andiamo a parlare la squadra aggressivo queste gare si devono vincere ma vabbè 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 come detto è una sconfitta indolore chiudiamo il campionato 70 punti a ben 17 punti di distacco dal catanzaro imbattibile incredibile il campionato che hanno fatto queste due catanzaro e bari vediamo il catane è stato sconfitto dell'utente riuscito del giorno del tifoso addirittura ok era la giornata del tifoso vabbè vabbè giustamente ha fatto contro il picerno però scusate a dirigenza adesso prima di chiudere questo episodio lampo chiamiamolo così voglio andare a vedere contro chi saremo sorteggiati in nei playoff eccoci pronti ragazzi sorteggio serie c playoff del terzo turno quindi partiremo dal terzo turno dei playoff sorteggio prossima squadra albino leff ma sì subito proprio subito che contro l'albino leff vediamo un po come sono qualificate al sesto posto delle serie c girone a e quindi ragazzi voleremo in lombardia contro l'albino leff e la prima partita sarà in trasferta quindi ragazzi i prossimi episodi saranno incentrati solo sui playoff quindi vedremo due partite alla volta sperando ovviamente da arrivare fino in fondo fino alla finale che poi ci darà il via per la serie b quindi saranno episodi anche un po più brevi del solito ma meglio sono più visibili per tutti anche per chi ha meno tempo da dedicare a youtube e video in generale detto questo come sempre vi chiedo ragazzi di iscrivermi la vostra qua sotto nei commenti di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale perché mi raccomando siamo arrivati il momento più caldo più appassionante della stagione ovvero serie b serie c non si sa lo scopriremo nei prossimi episodi e quindi noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video ciao iscriviti al canale